Cominciamo dal primo campione, che è un vino bianco, limpido, un paglierino, è abbastanza consistente, anche se potrebbe, per gli archivi, avere qualcosa di più, a naso intenso, abbastanza complesso, è abbastanza fine, sento della frutta, ancora qualche fiore, e una leggera speziatura. La velutata di cipolle, oserei anche a metterci un rosso, come un ormeasco, e potrei lasciarlo anche con il cuore di filetto, e passare a uno sciacchietrack in una torta a sacchia. Tempo, avere l'abbiglamento, con un vino da tutto pasto, proveniente dal mondo. Benissimo. Complimenti per la prova, grazie, grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.